Le penne nere della sezione di Domodossola in trasferta in Sardegna dal 3 di novembre per un motivo molto importante, per una soddisfazione enorme. Certo, sì, ci è giunto questo invito da parte di una corale, più precisamente la corale Santa Maria Maddalena di Nuragus in provincia di Cagliari, al quale abbiamo aderito con molto entusiasmo, siamo pronti a partire. Niente, ci saremo ospitati da questa corale per tutti i tre giorni, vite o alloggio, e porteremo i nostri canti, i canti delle nostre montagne, i canti della nostra tradizione alpina in quella terra, insomma. Ecco, la continuità è la cosa che deve mantenersi il più possibile. Senz'altro la continuità, e questi progetti appunto li sviluppiamo appunto per dare continuità. Più il parco, diciamo, di gente interessato, meglio è per la continuità. Giustamente il coro crea delle nuove situazioni, crea dei nuovi ambienti, come il coro, la fanfara e tutte le varie specialità che abbiamo come ANA. Quindi questi progetti cerchiamo di ampliarli più che possiamo. Il coro ANA di Domodossola è nato nel 2009, da quest'anno un nuovo maestro che ha anche un progetto importante, portare avanti dei cori di bambini e di donne. Sì, proprio in quanto al progetto della continuità pensiamo che portare avanti i bambini e farli crescere in un ambito così ricco di valori sia storici che musicali, sia bello sia importante. Quindi accanto al coro così solido già degli uomini abbiamo il coro dei bambini che si ritrova il lunedì a Domodossola, centro familiare, e il coro invece di donne che sono parte delle famiglie, sempre degli alpini, che vogliono così arricchire sempre di più la proposta musicale.